...e una storia d'amore che ha corromposto tutto il mondo... ...l'indisperità sociale e le società dei primi del genere... ...invece si sa che non c'erano le nuove tecnologie... ...lo studente e il docote di muore tra i due protagonisti. Già in scala un'invenzione nel 1998... ...un disastro di semplicemente per il fatto... ...la XMX, i superiore della società di una corona sonora di T-Tank... ...qu'è un'invenzione nella scala di T-Tank... ...e un'invenzione nella scala di T-Tank... ...e un'invenzione nella scala di T-Tank... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.